Dopo tre anni esatti, il Maggiore Eric Fasolino lascia la compagnia dei carabinieri di Battipaglia per raggiungere Matera, dove guiderà il nucleo investigativo. Tre anni intensi, costellati da brillanti risultati e da operazioni volte a contrastare i fenomeni criminosi più diffusi. Posso affermare che il bilancio è positivo. Abbiamo lavorato in modo concreto, abbiamo dato dei risultati visibili, abbiamo investigato un po' su tutti quelli che erano i reati che si sono presentati nella Piana del Sere sui Monti Picentini, abbiamo contrastato lo spazio di sostanze estrofacenti, abbiamo contrastato delle fenomenologie di chiaro stampo camorristico, molto attive soprattutto nel settore delle estorsioni. Abbiamo anche fatto delle indagini per quanto riguardava dei maltrattamenti all'interno di case di cura per anziani e per persone non autosufficienti. Non dobbiamo dimenticare anche l'attenzione dato ai reati di predatori, ai furti in abitazione, ai furti di autovetture, fino ad arrivare anche a quella che era l'immigrazione clandestina e un'associazione finalizzata a permettere alle persone irregolari sul territorio di conseguire il permesso di soggiorno attraverso dei matrimoni finti. Quindi diciamo che mi permetto di dire, ma credo che sia anche patrimonio acquisito per tutta la collettività, che i risultati che siamo riusciti a raggiungere in questi tre anni di comando della compagnia di Battipaglia siano positivi. Cosa si sente di dire al suo successore e ai cittadini del comprensorio della compagnia? Il mio successore è indubbiamente un in bocca al lupo per il lavoro che dovrà svolgere. Di sicuro la compagnia di Battipaglia è un organico dei carabinieri che sono all'altezza di fronteggiare qualsiasi situazione. Sono carabinieri oltre che motivati anche molto preparati. Quindi mi permetto di dire di continuare comunque su questa scia, anche emotiva, perché quando hai il personale motivato credo che sia il valore aggiunto anche per un contrasto efficace dei fenomeni criminali. La compagnia è una compagnia di sicuro lavorata, è una compagnia impegnativa. Abbiamo una competenza che spazia dal mare fino alle montagne, senza dimenticare dei centri urbani di grande espansione come la stessa Battipaglia, che conta oltre 52 mila residenti, e Ponte Cagnano-Faiano, che è come dico sempre la duplice funzione sia di comune e se stante che periferia di Salerno. Quindi una compagnia molto impegnativa. E ai cittadini invece cosa si sente di dire? Indubbiamente ringraziarli per l'affetto che mi hanno dimostrato in questi tre anni. È stato gratificante camminare per strada e ricevere i ringraziamenti da parte delle persone che mi incontravano. Una stretta di mano e un grazie detto guardandoti negli occhi è quanto più emozionante un carabiniere possa ricevere. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.